Questo video ragazzi è sponsorizzato da Eneba. Cosa vuol dire? Vuol dire che tramite Eneba.com, trovate il link in descrizione, potete acquistare PSN Card, Xbox Card a prezzi veramente più bassi. PSN Card da 25 euro a 21 euro, una ricarica portafoglio da 100 euro a 82 euro e Eneba vi garantisce non soltanto la consegna immediata del prodotto, bensì anche la sicurezza e la garanzia di avere un'assistenza post acquisto. Quindi se vi serve qualcosa del genere, link in descrizione e entrate su Eneba. Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi facciamo un breve video dove analizziamo il mercato e come mai si sono rialzati o abbassati di prezzo alcuni giocatori. Vediamo alcuni esempi e cerco di darvi le motivazioni per farvi capire come funziona l'andamento del mercato di food. Allora partiamo da Holland. Holland è arrivato al CAP, quindi al range di prezzo massimo. Cosa è successo a Holland? Allora, inizialmente costava pochissimo, poi ha raggiunto questi prezzi perché era considerato in meta, quindi molto usato nel gameplay. Da questo momento in poi lui è uscito dai pacchetti. Cosa vuol dire? Dal 30 di settembre circa, la sua carta Once to Watch è entrata a far parte del gioco, diciamo. Per cui la carta oro non era qui disponibile. Nessuno, o meglio pochi, si possono permettere una carta da un milione e mezzo, due milioni, per cui tutti vanno a comprare la carta oro. Che, ovviamente, non essendo più spacchettabile in questa settimana, si è continuamente alzata di prezzo. Ha avuto un ulteriore picco dal weekend ad oggi, raggiungendo dai 300k ai 350k, perché, avendo segnato la tripletta contro il Manchester United in campionato, è un papabile Team of the Week. Quindi potenzialmente potrebbe stare fuori dai pacchetti non solo fino a venerdì a causa del OTV, bensì fino a mercoledì prossimo, qualora dovesse entrare a far parte del Team of the Week attuale. Núñez, per quale motivo, ha avuto un raddoppio di prezzo dopo il primo calo. Inizialmente raggiunse il prezzo di 11-12k, perché si sapeva che sarebbe uscito OTV, quindi stesso discorso di Holland. Dopodiché è ricalato a 8-9 mila crediti, perché il suo prezzo, cioè il suo valore di mercato, era troppo alto rispetto al reale valore della carta. Poi effettivamente, dal 30 in poi, è successo che Núñez è fuori dai pacchetti, perché è disponibile la sua versione once to watch nei pacchetti, come Holland. In aggiunta, si è scoperto il fatto che molti giocatori attaccanti e piazzati grossi fisicamente, con uno stile intesa particolare, che sia architetto o altro, c'è la possibilità di farli diventare l'Accelerate Lengthy, che attualmente è in meta, quindi tutti sono alla ricerca di un giocatore che abbia questa caratteristica, per chi gioca sul next chain. Per cui Núñez sta diventando un giocatore molto usato anche per squadre economiche. Per questo motivo, negli ultimi giorni, ha raddoppiato il suo prezzo e potrebbe continuare ad alzarsi. Allo stesso modo, è capitato ad alcune Icon o Heroes che apparentemente sono inutili. Cioè, Peter Crouch ha delle stats che lo rendono praticamente inutilizzabile, teoricamente. Seppur da quando si è scoperto che giocatori con la caratteristica Lengthy, attaccanti specialmente, e fisici, con determinati stili intesa applicati, hanno dei boost, ha delle stats importanti nel gioco, vedete che il suo prezzo è praticamente non raddoppiato, bensì triplicato. Vedete? Qua era il K, 37,5, poi K aggiornato è arrivato al 110, 130, 150, ora costa 200K. Fin quando il Lengthy sarà in meta, è possibile che Crouch continui ad alzarsi di prezzo. Una carta come Leao ha avuto un andamento differente, nel senso che prima è salito addirittura a 26, 27, 28K, poi a causa dei molteplici spacchettamenti, a causa del fatto che altri giocatori sono più in meta rispetto a lui, ha avuto un calo di prezzo. Poi, chiaro che in questi ultimi giorni la gente ha fatto la squadra per giocare le qualifiche e per fare la Weekend League questo weekend, quindi Leao piano piano, leggermente, sta continuando a risalire. Una carta che vorrei mostrarvi invece è una carta che è calata, che è la carta di Kessy. Cosa è successo a Kessy? Kessy era un giocatore molto usato, fortemente apprezzato e in meta. Poi Davalinka, Dembele, Kundele, Vandowski, eccetera, eccetera, è arrivato a costare e superare i 40.000 crediti. Dopodiché qua ha avuto un enorme crollo perché è uscita la sua SBC. Cioè, quando esce una versione potenzialmente migliore dello stesso giocatore o di un giocatore similare, la sua card subisce un contraccolpo. Quindi la sua carta oro è passata dai 40 ai 24-25.000 crediti. Ora si sta leggermente rialzando perché comunque sia chi voleva completare la sfida o TV di Kessy l'ha completata, chi non può permetterselo torna a ricomprare la carta sua oro. Una cosa simile è successa a De Jong. De Jong è un giocatore fortemente in meta, aveva raggiunto gli 84-85.000. Dal momento in cui è uscito nel weekend la carta di Kessy SBC, essendo un giocatore alternativa, simile, della stessa squadra che garantiva gli stessi link, ha subito un calo fino a 70.000 crediti circa. Ora sta tornando a rialzarsi perché comunque, come Kessy, chi ha già completato la sfida l'ha completata, chi non l'ha completata è perché probabilmente non gli interessa, per cui torna la gente ad acquistare una carta come De Jong. Poi chiaramente Mendy è strausato, quindi sale di prezzo. Punku è strausato e oltretutto ha fatto, mi pare, goal e assist in campionato, quindi anche lui è un possibile Team of the Week, quindi card che ha probabilità di uscire dai pack mercoledì perché magari entra a far parte del Team of the Week numero 3, eccetera, eccetera, eccetera. Guardiamoci per esempio qualche carta del Team of the Week attuale, che è interessante, vedere il loro andamento, e vediamo che il picco più basso questa settimana, tutte le card lo hanno avuto fra venerdì 30 e sabato 1 ottobre. Per quale motivo? Semplicemente perché sono stati i due giorni, in questa settimana, l'ultima settimana diciamo, con maggiori spacchettamenti. Shomurodov è in rialzo, specialmente perché è una card che risulta essere apprezzabile in game. Ci sono alcuni utenti, alcuni influencer, che reputano Shomurodov il piccolo Holland, passatemi il termine, chiaramente chi non ha la possibilità di comprare una card da 300k, deve assolutamente puntare su carte più economiche. E Shomurodov, con, solito discorso, cambio intesa, e diventando con l'Accelerate Lengthy, è una card molto apprezzata, per cui nel momento in cui, ve ne ho parlato nel weekend, l'abbiamo presi a 12k, già rivenduti praticamente a 15k. Marquinhos, che è una card fra i difensori più forti del gioco, già la carta oro era i difensori più forti del gioco, e lui è salito di prezzo perché molto usato, perché fuori dai pack, un po' come quelli di cui parlavamo prima. Marquinhos, Team of the Week, ha avuto il picco più basso fra, appunto, domenica, scusate, venerdì e sabato, a causa degli spacchettamenti del Team Uno Wants to Watch, dopodiché, piano piano, la gente ha iniziato a utilizzare i crediti per fare la squadra, acquistare Marquinhos, metterlo in squadra, e via via ha iniziato il rialzo di prezzo. Queste sono le motivazioni generali che hanno portato andamenti di mercato, andamenti differenti di mercato, per una serie di carte. Chiaramente si potrebbe star qui a parlare ore e ore e ore, però ho voluto darvi un'impronta su quelle che sono le principali motivazioni delle card più usate e il loro andamento rialzo-ribasso di prezzo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, potremmo fare una rubrica settimanale del genere sulla base dell'andamento di mercato delle carte per insegnarvi le modalità di rialzi e ribassi, in modo tale da poter prevedere anche in autonomia come può funzionare questo discorso qua. E imparando questa metodologia, capendo i motivi dei rialzi e ribassi di prezzo delle card del mercato, potreste anche in autonomia imparare a fare compravendita nel vostro piccolo, imparare a non buttare crediti nel vostro piccolo, e imparare a massimizzare il budget che avete a disposizione. Vi ricordo che se vi abbonate al nostro canale Twitch, trovate il link in descrizione, FIFA Utita TV, potete accedere al nostro canale Discord, esclusivo, dove io do giornalmente indicazioni e consigli di compravendita con nomi, prezzi, motivi di rialzi, tempi di rivendita, eccetera, eccetera, eccetera. E vi garantisco che c'è possibilità di fare tanti, tanti, tanti crediti ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, per tutto l'anno in food. Grazie per la squadra di televisione, se vi è piaciuto un like, iscrizione, e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!